Fondamentale non sbagliare. Il Casalbordino ha come unico risultato utile la vittoria per disputare i play-out. Il Montesilvano non vuole farsi risucchiare nel vortice di bassa classifica. Antignani rinuncia a Majorani e Marrone inizialmente in panchina per problemi fisici. Assenti dai titolari negli ospiti della Penna e Mangiacasale, oltre agli squalificati Grandis e Martinez. Fischia Giallonardo di Sulmona. Il primo tempo vede una gara molto combattuta con improvvise folate di vento a modificare le traiettorie del pallone. La prima occasione arriva al diciassettesimo quando vedo Vato, crossa Perpetito che di testa spedisce al lato di poco. La risposta del Casalbordino è letale. Alla mezz'ora Ciafardini apparecchia la tavola per Grubesic che, dimenticato totalmente dalla retroguardia di casa, insacca il vantaggio giallorosso. Il Montesilvano conosce la posta in palio e pareggia subito. Una punizione deviata di Barbarossa diventa un assist per Bassi che sottomisura batte l'Alic e fa 1-1. Primo sigillo in campionato per il numero 10 di oggi. Nel finale di tempo il Casalbordino riesce ad attaccare con maggiore continuità e al 41esimo su cross di Pino Trisi bacia la parte alta della traversa. Un'ottima prima frazione lascia spazio a un pazzo secondo tempo. Punizione dal limite di Bassi che mette i brividi all'Alic. Al tredicesimo protesta dei padroni di casa dagli sviluppi di una punizione di Cavallucci marrone in sacca ma il direttore di gara annulla tutto per una posizione di fuorigioco dell'attaccante. Dal vantaggio annullato al Montesilvano si passa al 2-1 del Casalbordino. Dopo un batte e ribatte in aria montesilvanese salvato dai difensori, Trisi decide di mettersi improprio e batte Ubertini ingannato dal rimbalzo su una zolla diversa del campo. Sembra essere la svolta per i giallorossi con Trisi che ci prende gusto ma la mira non è delle migliori. Con il passare dei minuti verde oro tornano a rendersi pericolosi. Besi Maloku fa sedere Traino, Daka e Petito mancano l'appuntamento col pareggio grazie a una parata strepitosa di Lalic e un salvataggio provvidenziale di Pino. Gli animi si surriscaldano, il pressing del Montesilvano aumenta e sugli sviluppi di un traversone sbuca Besi Maloku che fa 2-2 siglando il suo settimo gol in campionato. Partita finita nemmeno per sogno, passa un solo giro di lancette e Daka dai 25 metri tira fuori dal cilindro un destro formidabile che si insacca all'incrocio e fa esplodere di gioia il pubblico di fede montesilvanese. Gli ultimi minuti sono un assalto del Casalbordino con i tentativi degli attaccanti bloccati sul nascere dalla retroguardia locale. Al 48esimo gli ospiti avrebbero l'opportunità di pareggiare ma Bonacci smarcato in aria solo contro Ubertini centra la traversa tra la disperazione dei suoi. Dopo 7 minuti di recupero il Casalbordino cede i tre punti a un Montesilvano che accarezza da vicino la salvezza. Mister Antignani è inutile girarci intorno, è la vittoria più importante dell'anno. Sì, vi chiedo scusa che ce la fanno perché sono stati insieme ai ragazzi a festeggiare anche perché ho ricevuto un'espulsione ingiusta. Io mi faccio una domanda, perché vedo tanti allenatori sopra i comunicati diffidati e a me sembra il rosso diretto pure quando non dico niente. Io non ho detto mezza parola, però in un momento così cruciale del campionato non si può prendere una decisione così cervellotica e buttare fuori l'allenatore a partita prossima che è importante, far andare la squadra senza un allenatore. Vedo domenicalmente tutti quelli espulsi, diffidati, 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 a me è sempre il rosso diretto una giornata, due giornate, tre giornate e quattro giornate. Io non è che mi voglio lamentare, anche perché oggi c'è solo da parlare della grande prova dei ragazzi, però basta, basta. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, fortissima, una squadra che merita molto di più di quello che ha, però questa è la dimostrazione che non sempre un manipolo di ragazzini può non riuscire nell'impresa. Anche perché in un certo momento io avevo in banchina Marrone, avevo in banchina Bassi, avevo in banchina Majorani, avevo in banchina Tassone, stavo giocando tantissimi ragazzi, ce la siamo giocata alla pari con gente che ha fatto la C, ha fatto la D, quindi c'è la dimostrazione che è invito tutti a venirgli a vedere questi ragazzi e che non meritano questa categoria. Ecco, mister, sulla partita un'altalena di emozioni per due volte sotto e poi addirittura la rimonda. E questa è la dimostrazione che hanno lo stesso carattere che avevo io quando giocavo.